Saranno in 3500 alla partenza della dodicesima maratonina di Cremona, sono stati infatti tutti assegnati i pettorali stampati dall'organizzazione. Una gara che promette emozioni anche quest'anno e che assegnerà anche i titoli dei campionati italiani sulla distanza. Per l'occasione saranno presenti il direttore tecnico organizzativo delle squadre nazionali Massimo Magnani e il direttore tecnico del settore giovanile Stefano Baldini. Un appuntamento che è diventato una tradizione non soltanto per i cremonesi, naturalmente numerosissimi, ma anche per i tanti che hanno contribuito a far crescere la manifestazione attraverso gli anni. Un appuntamento che quest'anno potrete seguire in diretta sulla nostra emittente. Cremona 1 sarà presente con uno stand allestito nel cuore della manifestazione e attraverso le immagini e le interviste farà vivere tutte le emozioni dalla partenza di via 20 settembre all'arrivo in piazza del comune. Il collegamento si aprirà alle 9 di domenica per concludersi poco prima delle 11. Lo scorso anno il primo a tagliare il traguardo, Iego Solomon Kirua, fermò il cronometro sul tempo di 1.01.37, mentre la prima donna, Ellen Jep-Kurgat, arrivò in 1.11.16. Il primo a tagliare il traguardo, Iego Solomon Kirua, fermò il cronometro sul tempo di 1.11.